Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche il Milan comincia a muoversi sul mercato, nonostante manchi effettivamente l'allenatore, è praticamente ufficiale in realtà di Krunic che passa al Milan. Notizia proprio degli ultimissimi minuti, Milan che supera la concorrenza di Genoa e Torino che erano sul giocatore e si acquista appunto il giocatore del oramai ex Empoli. E' una mezzala, è un trequartista, è perfetto per Giampaolo ragazzi, cioè nel senso ogni volta, ogni giorno ci sono sempre più indizi che portano a Giampaolo come allenatore del Milan. E' quasi ufficiale, nel senso se ne parla in maniera molto molto chiara, molto molto netta, è praticamente scontato che Giampaolo diventava allenatore del Milan. E appunto questo è il primo colpo per cercare di accontentarlo. L'ha già allenato all'Empoli, un anno in realtà l'ha usato anche poco o niente, però è comunque un colpo secondo me molto molto interessante. Fatto 8 milioni più bonus, quindi comunque una cifra secondo me molto molto buona per il giocatore che ha fatto una grande stagione. Secondo me è stata una delle sorprese insieme a Traoré, insieme anche a Caputo per dire, è stata sicuramente una delle sorprese. E Krunic passa ufficialmente o quasi al Milan. Come vedete è un buon giocatore, può giocare mezzala, può giocare trequartista dietro le punte. Quindi secondo me, come detto per il gioco di Giampaolo, è perfetto perché è proprio quello che vuole lui. Ora, dipende un attimino dalla questione. Se il Milan ha preso Krunic per farlo giocare titolare, non va tanto bene. Nel senso che comunque Krunic è un giocatore che viene da una retrocessione con l'Empoli, quindi non puoi farlo giocare titolare. È quella valida alternativa che a parte in corso ti può far male. Nel caso di turnover, che ne so, pre-Europa League, piuttosto che pre-Copa Italia, oppure anche nella Coppa Italia stessa, può essere veramente buono. Può essere quel giocatore che comunque non ti dà un calo di qualità rispetto ai titolari, non più di tanto almeno. Però è e deve rimanere una valida alternativa. Sinceramente non me l'aspettavo, è proprio un fulminaccio del sereno perché non se ne era neanche parlato l'interessamento del Milan. Pensavo che andasse al Torino, veramente ci avrei messo la mano sul fuoco. Però non è stato così. Come detto, l'anno scorso ha fatto una buona stagione, secondo me. È stato uno dei migliori del suo Empoli, nonostante poi la retrocessione. E effettivamente quest'anno l'Empoli retrocedendo ha dato tante possibilità, avendo lanciato tanti giocatori a squadre di buon livello, di acquistare i suoi talenti. Nel senso che Caputo, si sa già chi praticamente andrà via. Ora Krunic, che è stato lanciato, tra un re che è passato la Juve. Io ve lo dico, il prossimo sicuramente sarà Benasser, che è anche lui un gran, bel giocatore. E secondo me sarebbe perfetto, per esempio, per una Sampdoria. È proprio come un Torreira, diciamo. Quindi secondo me sarebbe perfetto per la Sampdoria se giocasse con quel modulo, che è appunto quel mediano. Un mediano di quel tipo, perché è comunque un giocatore che ha buoni piedi, è un giocatore che è cattivo. Insomma, ci sta veramente di brutto per la Sampdoria, secondo me. E quindi ragazzi, andando a parlare di Krunic, è un colpo, secondo me, se l'ha preso per fare il titolare, da 5. Se l'ha preso per fare il panchinaro, secondo me è un colpo da 7, 7,5 pieno. Ragazzi, preso a 8 milioni, 8 milioni Krunic, che l'anno scorso già si parlava di 15 milioni la scorsa estate. 15 milioni per il suo passaggio alla Sampdoria, al Torino, non mi ricordo. Quindi, cioè, 8 milioni ragazzi, 8 milioni è veramente tantissima, tantissima roba. Complimenti al Milan, che è arrivata prima di tutti per concludere questo acquisto. E detto questo ragazzi, io vi invito a mettere un mi piace se volete altri video su calcio al mercato. Vi invito a scrivermi nei commenti la vostra. Riguardo questo passaggio di Krunic al Milan, vi invito infine ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questo tipo di video. A tua vita calcistica, Pantacalcio, qualsiasi cosa accade nel mondo del calcio. E tutto questo io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.